Salve a tutti gente, io sono Caso90, come c'è da Alex Kaos, Pimpers e Griffin E siamo qui... In modo molto pacifico E siamo qui su Left 4 Dead, I Hate Mountains, Episodio 4 Andiamo avanti, via! Cazzi, come ti paghi? Noi partiamo con l'handicap noi, con la vita smazzata Ma tu parti sempre con l'handicap Boahhhhhh Perché siamo fissa con casa, hai capito ? Guarda che eh... Il ritardi è ripaghe da sole, io me ne vado Il ritardi ce li hai il tuo capito? Idbl che l'ho qui dai, giocare adesso che vorrei Dai dunque Veep dai non... No! Che figo questohhhh Non c'è nulla Non l'hai visto? Lì sul fuoco C'è un Mostro hai visto che Vip è spinto dalla curiosità si è mosso ciao Vip non mi voglio più fare Vip no fuck me right in the pussy ok avete sentito come ho chiamato gioculus gioculus noi dovevamo seguire eh però griffin si smetti in mezzo infatti noi dovevamo seguire le track c'è scritto follow the tracks seguire i binari ma questa mi sembra all'inizio ok se siete scesi tutti c'hanno anche ti immagini che scenderemo e dovevamo all'inizio dovevamo rifare tutta la mappa Vip però non chiamarle queste cose di sfiga griffin sta andando di avanti da solo tipo ok dunque dobbiamo andare lì dove lui si si e io ho i guantoni thank you thank you secondo me qualcuno farà suonare l'allarme quale allarme? la macchina lo so ah è questa macchina ok ops ho per sbaglio attivato questo perchè vai da solo avanti ok abbiamo perso perchè? vabbè vero eh tu li attivate il gerger è arrivato a fare l'attivare vai aiutare griffo vai aiutare griffo no 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 ho un'arma abbastanza efficace per aiutare griffo io scusa no lo stanno riempiendo io non so come fare addio griffo è stato un sacco aiutatemi però che cazzo ci fate voi due lì in fondo sei con me sto combattendo contro 700 gatti assassini che non si fanno colpire 700 gatti ok ci avevo fatta spero voi abbiate qualcosa per curarvi questa macchina cazzo di gatti mi era cresciuto il serbo come l'ha cresciuto il serbo non so sono un nuovo tentativo di riconoscere il serbo troppi troppi mob forse per la mia connessione però meno male che avevo le pistole ho fatto ingenti danni da terra grande così non avevi le magno le magno non avevo i cornetti eeeh e vai non avevo il calippo eeeh ci siamo perchè te l'ho messo nel culo eeeh c'è una witch che ho infastidito scusate bene arrivederci proprio l'ho uccisa non è vero non mi riesce a colpire ce l'ha fatta eheheh è un bivis ma cosa bella è che l'ho infastidita io ho preso casa no no l'ho sparata prima io ah ma io l'ho fatto esplorare la cosa e vabbè mi prendo le pillole dietro sta arrivando il treno i treni mua 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 dove stanno le munizioni dove? ah ma perchè già già sto esplorando il mondo spero no vabbè ma sto comunque cioè boh comunque dico ogni episodio che le mappe sono fighe perchè mi hanno pagato così almeno mi aspettete di romper il coglio dove stanno inizioni? perfetto guarda che questa texture originale non posso averlo mai visto qua sono inizio ah ok raga guardate quanto cazzo sono utili sta torrette vai 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 si ma vi muovete che io ho preso le pills e poi vado lento come la morte si oh guarda c'è addirittura una feritoia qui per cadere guarda l'ho visto l'ho visto la vita a voi l'hunter non mi ha neanche colpito a me ci sono per dire ah no non vi vorrei non vi voglio più contro gli zombie io andavo qua io andavo qua io andavo qua io andavo qua se dovesse accadere una poca list e zone eh si follow the tracks almeno non so niente all'inizio non è il se è il quando si ma non da questo lato di coda dobbiamo andare raga eh guardate io guardate io quanto so fico qua sopra Tantanciana 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 che cacchio è vabbè ti riesco ti riesco ti riesco ti riesco ti riesco qualcuno che ha pillole comunque sa che mi può curare perchè sei incinto? si per favore si per favore dietro 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 minchia mi ha fatto volare male son morto ha fatto una tripla ha fatto auto giuca giochi mi se mi servirebbero pure ingenti cure please non ne ho non griffin c'era griffin ingenti cure no no finito lo vedo da dalla cosa non voglio le pillole curami proprio no no dai che palle di destro dai grande così quanto sei pauroso grazie andiamo da che tu sei bello grazie io sono sezio parlato lunghi ahahah ho trovato gabriel garco con quella maschera ho parlato bill con quella maschera con quella faccia ho trovato gabriel garco con quella maschera ho trovato gabriel garco con quella maschera lo sono veri stato ascella si ma che mi piace non le ascella c'è un boomer vicino per me fettisci la scena no no ma che rende scena che schifo che schifo cosa che schifo ti ho messo ehm si si è rimasto il cazzo odore di aia rai no è rimasto il cazzo odore di 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 sudore mi sono mi sono esatto per me che aiuto ok grazie città mi sa che siamo già anche arrivati forse abbiamo preso una scorciatoia in realtà non so perchè ma ma io non vedo allo tempo ma io non vedo allo tempo ma io non vedo maledetti gatti di merda puoi dai gioco gioco tranquillo che i gatti siano conto e con il tuo spirito come fai hehehehe cos'è sta roba una pipe la preferisco con il tuo spirito preferisco ammazzare il tempo che che il primo zio non è che dobbiamo salire sotto preferisco sparare cazzate se lo salgo sopra preferisco far esplodere vipo no è chiusa non si sale proprio i vipo proprio i famosi oddio dietro non so c'erano troppi alberi c'erano mi ha ucciso perciò ma non fa c'erano troppi alberi non sono riuscita scappando gli alberi non ucciso esatto non ho ammazzato gli alberi dai ho deciso siamo arrivati ma siamo arrivati ma che ho avanti mi sono 4 ma che ti dice che si deve andare lì che è la cosa della del segnale bici di qua per fare più ma non è che c'era prospettiva di salato io che carlo io lego devo accorre seguire lecce se il figlio chiavi seguita vecchio ma è che no mia ma è che da cazzo perchè tutti hanno una falce dietro la ricetta la ricetta la quina ma non c'era scritta pull the lever per abbassare mi pare quindi dov'è la leva questa quale prendere a funghi gatti la need food or will be that before dawn fungine munizioni io muoio mi offro volontario io muolo adesso vado all'ospedale io non vado all'ospedale ciao ah è lì lì sopra lo vuoi vedere un progettile letal tu hai appena fatto un progettile letal bisogna dire non fermi attivo e questo è il signor bastianici che salutiamo lo chef bastianici che ci siamo sempre e io attivo perchè sono perchè sono dirichino io non perchè sti rumori che fa paura un progettile letali un progettile letal ma cosa sta succedendo con questo rumore non lo so lì ah si sta aprendo lì vedi montacarichi sta portando tutto la nel dubbio si spara ricordate sempre quando siete in difficoltà farò androno in qualsiasi situazione nel dubbio sparato anche qualcuno o uno di vita perchè o uno di vita perchè nessuno ti ha più curato probabile ragazzi sono in uno spot oddio grazie vip guardia pure ma questo è un effetto speciale michael bay l'ha fatta questa mappa raga ci sono 100 medici qua dentro io la cazzo è finita? qualcuno sicuro che griffle l'ha fatta eh padre l'ho preso ma lo volevo dare a te ehm è il passo successivo rubare per gli altri eh dai c'è la gente mi spara e mi dice merda sono cleftomane sono cleftomane in realtà io ti ho protetto non ti ho sparo non mi ha dato neanche il coso che ti ho sparato che cacchio ne so ma finita li possiamo andare pure ma finita li possiamo andare pure ma dove l'hai presa questa? non lo so l'ho rubata perchè è una sirigna in tasca? mi trova possiamo andare raga? non ne ho idea problema è dove boh andiamo per andare dove dobbiamo andare dove dobbiamo andare dove dobbiamo andare dove dobbiamo andare non lo so ci sono troppi zoni raga chi riesce ad arrivare su quel tetto mi cambia a me mi sei caduto subito si qua ho deciso non ce l'ho fatta io mi sono rotto le rotule l'utero l'utero mi sono allora ah qua ha spaccato sta roba forse si ok ha spaccato no non è vero si si in questa casa raga questa casa per la casa vai a profondare dentro così se c'è fuori ok oh se mario oddio mamma mia quanto ti avrei ammazzato vabbè è finito grazie ragazzi questa fece vediamo appena ciao te neanche questo episodio che c'è ma che serve questa torretta ciao a sparare lì al muro fuori muro non lo so comunque agente grazie per la visione ci vediamo al prossimo video di la parola ciao ciao